Ciao! Prendi in mano un filo di carta e matita perché oggi ti faccio vedere i do's e i don'ts nel disegnare un volto. A sinistra vi farò vedere i don'ts, dove racchiuderò in un disegno simbolico tutti i principali errori che vedo fare ai principianti. A destra invece vi farò vedere i do's, quindi come correggere questi errori e riuscire a fare un ritratto realistico. Prima di incominciare però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e non dimenticare di consultare la descrizione di questo video, dove puoi trovare il link al mio corso di disegno, al mio kit da disegno realizzato in collaborazione con Momarte, alla mia dispensa gratuita per chi vuole imparare a disegnare e anche a tutti i miei profili social, Pinterest e Instagram. E basta, sono solo due! Iniziamo subito dal primo grande errore che vedo fare a tanti principianti, ovvero quello di partire a disegnare un intero volto iniziando subito dagli occhi. Sì, posso capire che sono quella parte che dà l'espressione al viso, che risalta maggiormente e che noi osserviamo di più, però partire subito dagli occhi è un po' come iniziare a costruire una casa dipingendo i muri. I muri non ci sono ancora, dobbiamo prima costruire tutto il volto. E aggiungo subito anche il secondo grande errore, ovvero partire subito dal dettaglio. Di questo ve ne avevo già parlato nel mio altro video, perché i tuoi disegni sono piatti, che vi lascio linkato qua in alto a destra. Sicuramente se vi interessa questo tipo di video, troverete anche quello molto utile e interessante. Questo errore di partire da un elemento e farlo subito molto dettagliato, ci porta ad andare quasi pezzettino per pezzettino spostandoci da un dettaglio a quello successivo. Quindi faccio bene prima l'iride, poi faccio la rima degli occhi, le ciglia, poi ciò che sta più vicino, le sopracciglia, poi attacco un altro occhio di fianco e poi attacco il naso sotto. E viene una sorta di effetto Frankenstein, chiamiamolo così, in cui tanti dettagli singoli vengono messi insieme tra loro. Sul momento, proprio improvvisando. E questo poi nel risultato finale si vede molto chiaramente. Un terzo grande errore è quello di disegnare con delle linee lunghe, delle linee continue, fatte a improvvisazione, quindi che non abbiano una base sotto. Queste linee, che siano curve, che siano rette, comunque che delimitano degli spazi, senza una costruzione di fondo siamo sempre lì, vengono un po' a caso e quindi è difficile che siano giuste. Ad esempio, la linea di contorno degli occhi, fatta un po' così, vedete già quanto gli occhi sono diversi tra loro. Questo si ricollega anche al quarto grande errore dei principianti, ovvero di fare delle scurissime linee di contorno. Già dai primi passaggi, all'inizio si ha quest'idea un po' infondata, che delle linee di contorno molto nette e molto scure diano profondità al disegno, quando in realtà fanno proprio l'opposto, lo rendono grafico e fumettistico. Il quinto grande errore è quello di disegnare i pezzi del volto come ci immaginiamo che siano, senza guardare realmente come sono nell'immagine di riferimento. Qui ad esempio sto disegnando delle labbra molto grafiche, della classica bocca, che possiamo disegnare anche ad occhi chiusi, perché un errore che si fa all'inizio è non guardare tanto l'immagine di riferimento quanto il proprio disegno. Quanti principianti ho visto che guardano solo il loro disegno e non guardano in realtà all'immagine che stanno copiando? Ma come fai a sapere com'è quella cosa se prima non la guardi? Anzi, se non guardi più al modello che al disegno stesso. In questo modo si finisce per disegnare un'idea, una cosa che spiego molto chiaramente anche nel mio corso di disegno, a cui trovate comunque il link qua sotto se volete sbirciare un po' il programma. Causa di questi cinque errori è un sesto grande errore, ovvero ritrovarsi con un volto che non c'entra niente con l'immagine di riferimento. Certo, l'immagine può essere un indirizzo verso cui andare e poi l'artista rende il volto come gli piace a lui, ma comunque questo volto deve sembrare realistico, deve sembrare un volto possibile. Non deve essere così chiaro come in questo caso che è un volto sproporzionato, impossibile che esista e quindi scorretto. Il settimo errore è che presumibilmente una volta arrivati a questo punto si faccia l'ovale del volto, un po' così su due piedi e risulta sbagliato perché in realtà l'ovale del volto cambia la fisionomia in una maniera impressionante. È davvero importantissimo rispettare la forma della mascella, degli zigomi, della fronte. Non possiamo delegarlo come ultimo compito, ha fatto un po' a caso. L'ottavo grande errore è fare tutte queste parti del volto, gli occhi e la bocca in particolare, troppo grandi rispetto a come sono nella realtà. Enfatizzarli a maniera quasi principessa Disney, mi verrebbe da dire, fumettistico. Anche nei manga gli occhi sono enfatizzati così tanto, ma è un effetto certamente voluto, è un effetto che non vogliamo replicare nel momento in cui vogliamo fare un disegno realistico. Certo, è vero che delle labbra carnose e degli occhi grandi rendono un volto femminile più attraente, ma esiste anche un modo per addolcire un volto senza stravolgerne i connotati. Anzi, questa forzatura eccessiva finisce per imbruttire il ritratto e ovviamente falsarlo, renderlo non realistico. Il nono grande errore è quello di enfatizzare troppo le linee e le rughette d'espressione. Ecco, è vero, in molti ritratti queste traspaiono e non è che non dobbiamo farle, dobbiamo censurare questi difetti come se ci fosse un filtro Instagram su questo volto. Assolutamente no, ma c'è anche un modo per rappresentarli in modo più delicato così che non siano preponderanti sulla fisionomia. Quindi noi li possiamo fare, ma in un modo delicato. Altrimenti finiscono per invecchiare il volto che abbiamo tanto provato a rendere più bello con queste ciglia giganti e queste labbra carnose. Quello che risulta è una caricatura. Il decimo grande errore è quello di cercare di dare un po' di volume facendo una sfumatura con lo scottex. Ecco, qua si apre un po' un discorso. Lo scottex sì, ve lo faccio vedere anche io, ma sempre solo dopo aver steso delle linee del chiaroscuro, solo dopo aver determinato dove quelle ombre staranno per dare un effetto più sfumato a dei segni che ho già posizionato in modo chiaro e che so dove andranno a finire. La sfumatura di cui sto parlando ora è una sfumatura fatta un po' a caso, tutta omogenea, tutta sfumata, senza alcun tipo di scansione tonale e senza considerare minimamente quelli che sono i piani e i volumi del volto. Il risultato, ahimè, è un disegno ancora più piatto di prima. Un altro errore che non sono riuscita a mostrarvi perché prima ho sfumato tutto è quello di lasciare la sclera dell'occhio completamente bianca. Addirittura qualche giorno fa su Pinterest ho visto qualcuno che ha condiviso un suo disegno in cui aveva schiarito la sclera dell'occhio con lo sbianchetto. Horror! Veramente horror! La sclera non è bianca. Anche lei subisce le ombre e quindi può avere dei piccoli punti luce ma bianco totale del foglio o addirittura dello sbianchetto è veramente un'ingenuità spaventosa. E poi gli errori vanno a ripetersi quindi mettiamo che adesso che è tutto soffuso si vuole aggiungere del volume e invece di farlo con un sapiente chiaroscuro si vanno a ripassare di nuovo i contorni. E poi sempre perché disegna le cose idealizzandole va ad esempio a fare tutte le rughine nelle labbra tutte quelle pieghette che in certe immagini si vedono in certe no e anche se non le rappresentiamo o se le rendiamo in modo molto idealizzato comunque le labbra sembrano realistiche e quindi questo aggiungere dettaglio senza cognizione di causa non ci aiuta minimamente. E dopo le righine sulle labbra cosa si fa? Certo le ciglia ma quante volte mi hanno chiesto ci fai un tutorial sulle ciglia? Ragazzi non sono quello che determina il realismo in un ritratto ma neanche negli occhi certo è ovvio che delle ciglia fatte proprio a mo' di spaghetto sono brutte da vedere certo però piuttosto fatene di meno raggruppatele rendetele più semplici ma certamente fare delle belle ciglia finte e enormi non aggiungono qualità al vostro disegno. In questa sede non tratterò i do's and don'ts i capelli se vi interessa un video a riguardo scrivetemelo nei commenti perché già ricevo tante richieste sui capelli però magari un do's and don'ts può essere ancora più stimolante però tendenzialmente un errore che vedo fare spesso è disegnare i capelli come spaghetti singoli e non come una massa generica quindi lascio molto semplificati per non dilungarmi troppo e nel caso vi interessi per l'appunto ne parliamo in un altro video. Prima di passare ai do's vi siete ritrovati in alcuni degli errori che ho menzionato? Fatemi sapere perché mi interessa molto sapere se ho centrato il bersaglio. Quindi vediamo adesso i do's quindi come fare per disegnare un volto realistico. Il primo do's è ovviamente partire dall'asse di simmetria certo come sempre lo ripeto in ogni video ma vedo ancora che tanti di voi che mi mandano i loro disegni saltano questo passaggio guardate che lo vedo che non c'è neanche un vago segno e dopo di questo ovviamente la struttura generale l'ingombro del volto facendo alto, basso, destra e sinistra come punti cardinali insomma. in questo modo inquadro bene lo spazio generale in cui si inquadra il volto così che vedete già la prima grande differenza il volto nel don't l'ho fatto per ultimo e adesso lo faccio per primo. Questo primo passaggio perché è così importante? Perché mi permette anche di delineare fin da subito se si tratta di un volto allungato un volto tondo un volto quadrato a cuore determinando da subito la forma del volto anche la fisionomia verrà di conseguenza più appropriata e più somigliante all'immagine di riferimento. Poi ovviamente come vi ho già spiegato nel mio video come disegnare un volto che vi lascio il link qua in alto a destra faccio la struttura dei terzi quindi suddivido in tre il volto così che so dove andare a posizionarne tutte le parti. Ora non mi vedrete rifare lo schema in modo così preciso e dirigente perché comunque io ce l'ho già in testa nel caso voi se ne avete bisogno assolutamente fatelo. Il mio processo non esclude il fatto che si costruisca sotto prima bene lo schema che vi spiego in quel video che vi ho appena detto. Il mio terzo do's è quindi creare una struttura che vada a collegare tutte le parti del volto tra loro. Questa è determinata dai rapporti della fisionomia che sono rapporti specifici che si vanno a costruire sullo schema generico. Ok? Mi rispiego un attimo. Lo schema generico che vi ho spiegato nel video come disegnare un volto si adatta a tutti i volti. I rapporti specifici che vado a fare ora si adattano solo a questo e ne caratterizzano la fisionomia. Lo rendono somigliante. È più chiaro adesso? Se vi interessa un video dedicato solo alla fisionomia quindi come rendere un ritratto più somigliante all'immagine di riferimento scrivetemelo qua sotto perché mi è già stato richiesto un paio di volte e voglio avere la conferma che vi interessi davvero questo tema. Lo schema di base è chiaramente da memorizzare in modo che quando disegniamo riemerga inconsciamente. Il problema dello schema però è che rende il volto un po' statico. Lo rende standardizzato e quindi questo se in un momento iniziale ci aiuta a rendere il volto più realistico in un secondo momento in cui l'abbiamo imparato ci allontana dal volto specifico che stiamo andando a rappresentare e quindi utilizziamo quel mezzo per poi abbandonarlo. Gettiamo la scala dopo esserci saliti sopra. Il quarto do è andare per segni vaghi leggerissimi che vanno a inquadrare una zona in cui sarà poi il mio segno definitivo. Vedete come invece di fare delle linee di contorno faccio delle zone di tratteggio. Il processo che andrò a fare mano a mano è andare a scartare quelle parti meno specifiche per andare a evidenziare dei tratti più scuri più netti e precisi che vanno a determinare una forma più delineata. È un processo che va per gradi e stratificazioni di segni. Una volta che ho impostato il mio disegno con dei tratti molto leggeri intuitivi e indicativi controllo come sta andando quindi vado a vedere se i segni che ho fatto finora vanno bene oppure che cosa dovrò andare a modificare. Questa è la fase del disegno in cui bisogna fare le correzioni. È un momento cruciale per andare a individuare cosa andare a cambiare nel proprio disegno. Ma perché proprio in questo momento? Perché non abbiamo fatto ancora dei segni importanti non ci siamo ancora impegnati così tanto e quindi andare a cancellare o a correggere non ci pesa più di tanto invece se ci ritroviamo alla fine con un disegno ben rifinito e perfetto e ci rendiamo conto solo in quel momento che c'è qualcosa da cambiare oppure c'è proprio tutto da cambiare ecco lì andare a correggere cancellare ci pesa un pochettino di più. Quindi una volta che ho controllato che i rapporti proporzionali del volto siano corretti nella distanza tra gli occhi e il naso tra il naso e la bocca tra gli occhi e la bocca e tra le singole parti interne del volto e i bordi dello stesso quindi vedete che già questa immagine così vaga e soffusa sembra un ritratto molto più realistico di quello di fianco in cui abbiamo messo molto più lavoro molto più sforzo impiegato nella direzione sbagliata e vedete già quanto è cambiata la fisionomia è molto più somigliante all'immagine di riferimento riprendendo il discorso di prima quindi una volta che abbiamo controllato che tutti i nostri segni siano ben posizionati e che quindi le proporzioni siano rispettate correttamente andiamo a rimarcare i segni dei dettagli strutturali quindi a definire meglio le parti di ogni singolo elemento del volto con dei tratti più marcati più scuri ma non delle linee di contorno fate ben attenzione a questa differenza e riguardo a queste linee vedete come diversamente da prima non si tratta di linee lunghe curve e continue ma di segmenti che vanno ad unirsi tra loro piccoli tratteggi di diversa intensità che vanno a enfatizzare alcuni punti piuttosto che altri questa scelta ci permette anche di dare un'idea molto vaga di chiaroscuro i segni più scuri vanno posizionati in corrispondenza di zone d'ombra mentre nelle zone di luce questi tratti che determinano la forma saranno più leggeri e soffusi inoltre spezzare le linee e diversificarle ci aiuta molto anche a azzeccare meglio la forma specifica che stiamo trattando il prossimo duse scusatemi ho perso il conto è quello di guardare molto più l'immagine di riferimento rispetto al nostro disegno studiarla cercare di disegnarla con lo sguardo quasi così che poi quando ci spostiamo sul foglio disegniamo esattamente ciò che abbiamo visto e non ciò che pensiamo di vedere come abbiamo fatto sbagliando nel don't quindi la sagoma della bucca sarà dettata solo e soltanto da ciò che vediamo se vediamo una bucca quadrata la faremo quadrata fidandoci della nostra percezione inoltre un altro do importantissimo è se non vediamo i dettagli non serve farli lo ripeto un'altra volta se non vediamo i dettagli non serve farli volevo fare un po' di rima ma non ci sono riuscita se in queste labbra non vedo le pieghettine ma vedo invece delle ombre che determinano un volume ecco sono quelle che vado a fare se poi solo successivamente negli ultimi passaggi vorrò aggiungere dei dettagli questi siederanno sopra un volume già fatto in precedenza e quindi lì sì che avranno senso di esserci perché completeranno un'immagine che ha già un volume altrimenti come il disegno che vedete qua di fianco non aggiungono nessuna informazione né di realismo né di fisionomia né di volume al disegno con lo stesso processo creo quello che io chiamo solitamente contesto del volto quindi aggiungiamo una linea che determina il collo delle linee che indicano le ciocche di capelli in modo che comunque sappiamo bene cosa ci sta intorno come inquadrarlo cosa includere nelle ombreggiature sempre con dei segni molto leggeri e per ora ancora indicativi ora che ho dato un po' di contesto al volto posso andare ad aggiungere dei dettagli come vi dicevo prima sulla struttura di base che ho già fatto quindi solo in questo momento vado a definire un pochettino meglio il chiaroscuro degli occhi dell'iride della sclera la rima inferiore le ciglia e a questo punto posso partire con il chiaroscuro vi ho fatto vedere come faccio il chiaroscuro nel mio video chiaroscuro in 5 step di cui vi lascio il link qua in alto a destra quindi vi rimando assolutamente a quello per capire come dare volume a un volto attraverso il chiaroscuro e soprattutto come riuscire a distinguere i valori tonali quindi diversamente da prima vado con delle passate di una campitura uniforme che vanno a sovrapporsi e a stratificarsi dove è necessario aggiungere dell'intensità nelle ombre eventualmente se volessi andare a sfumare adesso potrei farlo solo nelle zone in cui voglio dare un effetto più sfumato e ovviamente ora con condizioni di causa ok quindi solo ora che siamo un po' avanzati nel disegno vado ad aggiungere le ciglia proprio con i segni dei peletti perché adesso si può iniziare ad aggiungere tutti quei dettagli che però fino a questo punto erano assolutamente superficiali insomma si va per priorità quindi partendo dal generale che è ciò che è più importante si passa al più piccolo dettaglio che ai fini compositivi generali è ciò che conta di meno e continua così intensificando il chiaroscuro e aggiungendo dettaglio al ritratto arrivati a questo punto mi ritrovo a dover disegnare i capelli e la testa un consiglio spassionato che vi do se siete ancora all'inizio fate fatica a individuare bene la sagoma della testa a fare bene tutti i capelli non complicatevi la vita è meglio fare qualcosa di semplice ma posizionato bene che andare a cercare di fare chissà che cosa senza avere un metodo e poi finire rovinando magari un bel disegno che avete fatto fino adesso se vi interessa capire come disegnare i capelli vi lascio qua in alto a destra il link al mio video in cui vi spiego come disegnare i capelli in modo semplificato in questo caso però vi consiglio proprio spassionatamente di inquadrare il volto anche con solo un paio di ciocche e magari rendere l'idea del fatto che la testa continua facendo dei segni più leggeri creando proprio un effetto di profondità per cui il ritratto è come se emergesse al centro avendo proprio un focus sul volto e poi i capelli rimangono più chiari sfocati l'immagine va a perdersi così viene comunque un bel effetto in questo caso quelle poche ciocche che sceglierete di fare le farete benissimo e darete quindi l'impressione che fare solo quelle piccole ciocche davanti è una scelta quindi dedicando tanta attenzione a queste ciocche sul davanti con la gomma pane potete tirar fuori delle linee che ricordano proprio i ciuffi di capelli e andare con un segno leggerissimo a passarci vicino non con una linea continua ma con una piccola campitura che parte proprio da quel capello e poi si diffonde così che faccia contrasto e quella ciocca in questo caso ovviamente bionda emerga di più in quest'angolo del viso che è più in ombra e il resto appunto lo lasciamo semplificato ovviamente se volete diventare brave a disegnare i capelli esercitatevi tanto disegnando magari capigliature complete seguendo ovviamente i miei consigli che sono importanti andare a approcciarvi a dei disegni complessi provare sempre a fare qualcosa di più difficile quindi mettervi alla prova e capire quali sono le vostre criticità bene i due ritratti sono finiti come vedete i due metodi hanno dato risultati completamente diversi pur essendo la stessa mano ovviamente il don't mi sono impegnata a farlo brutto fatemi sapere qui sotto nei commenti quali erano i don't che facevate e nel caso quali erano i dues che già conoscevate e mettevate in pratica se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici disegnatori noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo tutorial ciao